Da Cavriglia a Semproniano, i lama che hanno vissuto nell'area del parco di Cavriglia, nelle colline tra il Chianti e il Valdarno, hanno trovato una nuova casa. Gli esemplari, con la progressiva chiusura del parco e il ricollocamento degli animali in altre strutture, da tempo erano stati avvistati tra le province di Arezzo e Siena, adesso sono stati condotti nel centro di recupero per animali della provincia di Grosseto. I lama, due femmine e un cucciolo, sono stati catturati a gaiole e inchianti dai carabinieri forestali, anche grazie all'Associazione Irriducibili Liberazione Animale. Giravano spostandosi tra le province di Arezzo e Siena, ma invece di aumentare di numero, ormai erano rimasti pochi esemplari, spiega l'associazione. Forse ce n'è qualcun altro a giro? Il tempo passava e dovevamo metterli al sicuro, quanto prima. Da mesi richiedevamo la cattura ed ora, grazie a un momento favorevole, una nuova nascita, la cattura è stata possibile due femmine e un cucciolo.